we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo un bel po di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e quello che sta capitando su fortnite nel video di oggi infatti parleremo della nuova mini collaborazione con star wars ma andremo a vedere anche le nuove migliorie grafiche che epi games ha messo in game dalle ultime ore parleremo anche dell'arrivo di due skin interessanti e di tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta ovviamente del delta plano x wing ieri se non ricordo male intorno alle 16 lo shop è stato modificato aggiornato con il nuovo delta plano dedicato ovviamente a star wars tanto di immagini nella sezione notizie che dice procurati ora il delta plano squadrone avanguardia x wing nel negozio oggetti oppure ottienilo gratuitamente acquistando star wars squadrons su epic games store quindi ragazzi nuovo capitolo per la saga di star wars ovviamente nell'ambito videoludico disponibile anche nel negozio se siete degli appassionati come avrete sicuramente capito acquistate il gioco e una volta che avrete associato il vostro account di epic games cosa che avrete già fatto automaticamente ovviamente otterrete gratis il delta plano abbiamo un'altra bellissima immagine del wing dell'x wing come vedete davvero molto bello va a riprendere ovviamente una delle navicelle del film 1200 v bucks invece se voleste acquistarlo normalmente nello shop e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo è ciò di cui vi ho parlato a inizio del video le volumetrix cloud l'altro giorno le abbiamo viste in alcune immagini mentre oggi oltre alle immagini abbiamo anche uno spezzone video che cosa sono le volumetrix cloud per chi non lo sapesse sono le nuove nuvole di fortnite le potete osservare ammirare intanto ve le faccio vedere mentre vi racconto come funzionano utilizzando la grafica in modalità epica questo ragazzi fa sì che il realismo che si vede in game soprattutto in questo momento guardando verso il cielo sia un qualcosa di eccezionale sono veramente uguali alle originali sappiamo che happy games sviluppa tanto in questa season il comparto grafico che non si ferma ovviamente alle nuvole ma arriverà anche ai dettagli un pochettino più terreni alcuni hanno già notato delle differenze negli alberi sono veramente molto ben fatti quelli che hanno voluto inserire dall'ultima patch ma fra poco arriverà anche il grande update delle acque di fortnite dove si vedrà la scia del personaggio o si vedrà la scia della barca ad esempio che ci passa in mezzo sarà veramente una cosa incredibile un realismo davvero molto molto figo e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sbam molti l'avranno già vista alcuni forse non lo hanno ancora fatto ma questa immagine che sembra disegnata oppure fotografata da un fumetto marvel in realtà è un'immagine presente nei file di gioco non abbiamo ovviamente idea di dove verrà inserita pubblicamente ma è chiarissimo che questo qua è venom ragazzi già abbiamo delle cose di venom soprattutto nella modalità knock out marvel abbiamo il potere di venom quello che lui va a prendere ovviamente gli avversari causando danno e portandoli a sé e infatti ragazzi insieme a quell'immagine arriva anche una delle nuove legacy come vedete un chiaro riferimento di nuovo ad uno dei super cattivi di marvel mentre ci sono delle informazioni un pochettino più interessanti e tecniche che ci fanno capire che l'arrivo della skin di venom è un qualcosa che potrà veramente realizzarsi quindi another venom leak venom's control in the works la nuova scia di venom the second image is venom's mouth drool drops as you skydive praticamente la prima immagine è l'effetto di una nuova scia che verrà appunto dedicata a venom mentre la seconda immagine dicono che possa essere l'effetto della bocca di venom al momento forse dell'apertura del paracadute o probabilmente proprio l'effetto della scia il che a noi non interessa ma ci fa capire che qualcosa dedicato a venom per quanto riguarda skin o comunque scie e roba del genere sta in cantiere il che appunto vorrebbe dire che la skin arriverebbe qui invece abbiamo un'altra bellissima immagine delle delle della mano in 3d che va a riprendere ovviamente l'abilità di venom stesso quindi ragazzi siamo molto in attesa dell'uscita della skin così come lo siamo per quest'altra immagine che anche questa sembra presa da un fumetto ma in realtà è presente nei file di gioco e ovviamente si tratta di black panther un'altra skin tanto richiesta dalla community di fortnite se ne è parlato tantissimo per ovvi motivi la settimana scorsa ma anche adesso i giocatori non se la sono dimenticata e black panther invece abbiamo delle buone probabilità di vederla prima della fine season anche perché ovviamente c'è quella nuova mini location proprio il pantera nera vicino a brughiere brumose che lascia ben intendere anche per black panther ovviamente una legacy presente quindi le come dire speranze sono davvero tante e io mi auguro che in questa season arrivino dei nuovi supereroi da poter utilizzare e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché lui si fa vedere così tanti lo guardano in questo modo in realtà noi siamo abituati più a vederlo così il nostro tanto amato giarvino giarvello il face jarvis che l'anno scorso ragazzi fu bannato da fortnite in quanto durante un suo stream utilizzando un secondo account fece vedere come si potevano utilizzare dei software per l'ein bot epic games come da regolamento non tollerò assolutamente questo gesto e quindi è più di un anno che giarvino è stato bannato solo che forse non tutti sanno che qualche giorno fa il jarvis ha potuto ritornare a giocare su fortnite si ragazzi in realtà ha tornato è tornato a giocare su fortnite per qualcosa come 5 minuti perché non appena gli si è aperto fortnite è andato in live oh posso giocare a fortnite posso giocare a fortnite l'hanno stroncato violentemente io non posso non farvi vedere lo spezzone preso dalla sua live perché è veramente arte pura eccolo qua ragazzi il jarvino e guardate che cosa gli succede non voglio mettere l'audio per copyright lui è lì felice come una pasqua che piccona peggio di un minatore ed eccolo qua ragazzi che a un certo punto da nulla sbam jarvis ha una faccia che guardatelo c'è devo mettere in pausa guardate la faccia di jarvis in questo momento dove ha il panico negli occhi e si sta per rendere conto che ovviamente l'hanno violentemente perculato ed eccolo qua che è un mix tra disperazione e contentezza perché non sa bene come reagire mi viene ribannato con grande violenza lui applaude probabilmente in preda a un attacco nervoso butta via le cuffie e non sa bene cosa fare ci aspettavamo un po tutti il nuovo pianto così non è stato ma il jarvino ragazzi nuovamente è meraviglioso in questa foto è veramente meraviglioso è nuovamente bannato e quindi sappiamo non potrà mai più giocare insomma ragazzi anche per oggi ho tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali a me mi trovate alle 8 in live su twitch ciao grazie a tutti